sono alessandro vimoda parrucchiere qui in via 20 settembre 3 barraci e ci occupiamo a farvi belli e belle soprattutto da dieci anni per noi l'attenzione alla vostra bellezza è sempre stato primo posto i coffi sono aumentati le materie prime il gas la corrente un po tutto io non voglio farli pagare ai nostri clienti noi andiamo controcorrente dal martedì al giovedì noi abbassiamo i prezzi questa è la nostra politica aziendale il cliente è sempre al primo posto iscriviti al canale